Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti-tappeto Ziegler Moderni Faiza. Questi splendidi tappeti orientali sono repliche dei famosi Ziegler, originari dell'antica Persia. Il motivo riportato sui tappeti riprende quello degli antichi tappeti, spesso con una tabolozza cromatica più chiara rispetto ad altri tappeti orientali. Sono tappeti molto apprezzati e ricercati, soprattutto per la loro versatilità e adattabilità ad ogni ambiente, sia moderno, che più tradizionale. Il velo è realizzato in lana sintetica, un materiale con caratteristiche tessili, che permette di realizzare tappeti morbidi e piacevoli da calpestare, estremamente facili da pulire e che non perdono pelo. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione.